Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa bellissima maglia della Lazio, una squadra italiana. Questa ovviamente è la prima per la stagione 23-24 in edizione FAN. Alla prossima. La maglia non mi dispiace, ovviamente non è una delle mie preferite, questa tinta unita tutta azzurra, però per chi ama questi colori è sicuramente straordinaria. Qui in alto vedete il costo, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi ancora più vantaggioso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti.